A quel punto facevo poche punture. Un giorno non presi più nemmeno una pasticca, non feci neanche un'iniezione e il busto che portavo giornalmente, lo indossavo la mattina e lo toglievo la sera, insomma, un giorno mi dissi, adesso per oggi lo metto via, vediamo che succede. Di punto in bianco non ebbi più bisogno del busto e neanche di iniezioni o pasticche. Dal 1997 soffrivo di ernia del disco. I dolori erano terribili, spaventosi. Ho seguito diverse terapie, non solo in cliniche, case di cura, camera di decompressione, bagni termali, agopuntura, guaritori, naturopati. Facevo tutto quello che la gente mi consigliava. Solo che i dolori che avevo erano spaventosi. Avevo bisogno continuamente di antidolorifici. Quando mi veniva uno di quegli attacchi terribili, i medici dovevano darmi il neurobion insieme al voltarenna, cioè non uno o l'altro, ma entrambi contemporaneamente. Perfino l'infermiere che talvolta veniva e mi faceva le iniezioni per quattro o cinque giorni, non voleva darmi dosi maggiori, perché aveva paura che potessi riportare danni agli organi interni. Tanto erano forti le medicina. Aveva che aiutarlo a eugenizzarsi quando gli venivano questi dolori. Quando arrivavano i dolori dovevo aiutarlo a sedersi. Era una situazione difficile per la famiglia. Ma abbiamo cercato aiuto. Medici, guaritori, terapeuti e tutto il possibile. Tutti hanno detto che era praticamente incurabile. Nel corso di questi nove anni, sulla base delle radiografie e delle risonanze magnetiche, i medici hanno stabilito che avevo più ernie del disco, cioè avevo ernie in tre punti diversi della colonna vertebrale. Quando arrivavano gli attacchi, erano così forti che mi contorcevo. Potevo rimanere piegato per giorni dal dolore. Sentivo un male terribile dal collo lungo tutta la colonna vertebrale. E sentivo i muscoli contrarsi. Si trattava di una modificazione a più livelli della colonna vertebrale, nei settori da L2 a S1, vale a dire dalla regione lombare fino al coccige. Questi cambiamenti sono evidenti con il restringimento del canale spinale, la cosiddetta stenosi foraminale, che causano dolori molto, molto pesanti. Nel 2003 andai a Samborgia e seppi di Bruno Gröning e della guarigione per via spirituale. Mio marito era in viaggio. Quando tornò, glielo raccontai e mi rispose che non lo dovevo gravare così. Le dissi, no, non venire qui con queste cose ridicole. Pensavo che una guarigione per via spirituale fosse impossibile. Per me, in quel momento, era una cosa totalmente assurda. No, non l'ascoltavo e le dissi, non venire qui con questa roba. Io credevo ciecamente ai medici e alla medicina scolastica. Questo accadeva nel giugno 2003. Soffri ancora fino alla fine del 2003, per l'intero 2004. E nel 2005 arrivò un giorno in cui non potei più sopportare il dolore. Avevo le lacrime agli occhi e dissi a mia moglie Betty «Dai, mettiti in contatto col circolo degli amici. Vediamo dove devo andare. Io non ce la faccio più». Poi andammo dal signor Arturo Valdés. All'inizio lo portavo io con l'auto. Poi ha acquistato sempre maggiore fiducia e è andato da solo. Ed era molto più felice. Non ha avuto più così tanti dolori. A quel punto facevo poche punture. Un giorno non presi più nemmeno una pasticca, non feci neanche un'iniezione e il busto che portavo giornalmente, lo indossavo la mattina e lo toglievo la sera, insomma, un giorno mi dissi «Adesso per oggi lo metto via. Vediamo che succede». Di punto in bianco non ebbi più bisogno del busto e neanche di iniezioni o pasticche. Poi ci fu una conferenza a Lima nell'ottobre del 2006 e alcuni giorni prima feci delle radiografie. Il dottore le guardò, le confrontò con le precedenti e non ci poteva credere. Le riguardò ancora e disse «Amico mio, sei guarito! È incredibile!». Alcuni giorni più tardi conobbi il dottor Jorge Castaneda e disse la stessa cosa. Era stupefatto di fronte a questo miracolo che Dio ha operato nel mio corpo. La guarigione del signor Cabezza, che io del resto conosco anche personalmente, per me è emozionante. Che dopo tanti anni i malesseri siano spariti in così breve tempo è stupefacente e non spiegabile dal punto di vista medico. C'è un'ottobre del signor